Eccoci a Primus, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, diretta sulla pagina Facebook, ospite, lo ringraziamo ovviamente il sindaco di Pado, Sergio Giordani, stiamo parlando ovviamente della ruota libera, delle problematiche che ci sono in città e che il sindaco ovviamente deve risolvere. Sì, adesso cominciamo un po' con i lavori che state facendo, iniziamo pediatria, mi sembra che l'accordo è stato raggiunto, mi sembra che le belle arti, insomma, chi contestava per le mura, insomma, abbiamo messo da parte le contestazioni, mi sembra che tutto prosegua per il verso giusto o sbaglio? No, per quanto sia, non sono grossi problemi, do un po' per scontato, ho sempre dato per scontato che tutto nasse avanti tranquillamente, io capisco che può essere, la contestazione riguarda la pediatria è che è troppo vicino alle mura, ma a suo tempo ha chiesto l'autorizzazione che sono oltre 25 metri, ho capito, forse bisogna rovinare lo skyline, l'immagine, però io sono sempre iperpratico, oggi non abbiamo pediatria, non abbiamo un ospedale e abbiamo medici eccezionali, però se uno va a vedere un attimo all'interno di pediatria come è la situazione, prende spavento, per cui io capisco gli esteti, capisco tutto quanto, però noi abbiamo bisogno di fare l'ospedale, abbiamo bisogno di fare i pediatri, per quanto ne so io, senta, il direttore generale, Flora, a fine anno dovrebbe andare in pensione, rimarrà, va in pensione, va in pensione, va in pensione, ma rimarrà oppure, secondo lei, deve chiedere la Flora, la Zaya, non accettamente a lei, io ho provato a chiederlo un po' a tutti, un po', non riesco a capire per questo, le chiedo a lei, magari lei non sa, lo so che va in pensione, non solo lui, sono altri due o tre che vanno in pensione. Ecco, ma non è preoccupante che un direttore generale che aveva e che sa tutto sulla costruzione del nuovo ospedale, se ne vada in questo momento, ne arriva un altro, bisognerà perdere un anno per tutte le carte e via discorrendo, insomma, non riuscite a mantenere? Penso che, beh, non dipende da me, dipende dalla zona. Secondo lei, sì, in generale. No, lo so, certamente c'è, io penso che al di là del direttore generale ci sia un'organizzazione di base, per quanto riguarda la regione, penso che sia, ogni volta che va via una persona, anche come dirigente, qualche dirigente mio, che va, il dirigente mio parlo dell'amministratore No, perché mi sembra di vederne l'idea che ho fatto qui al direttore Flora, a Zaya, che l'ho sentito spesso parlare di questa tematica, ci sia un po' di, tra i due, un po' di, che non corra a buon sangue, ho avuto questa impressione, non vale di sbagliare. Non ho questa impressione. Eh, se ne ducere, mi rassicura. No, no, mi rassicura, mi rassicura. Sì, sì, io penso che sia fondamentale... E tutto è nato dopo, ovviamente, la classificazione di Padova come ultimo posto nell'ospedale... Io penso che sia importante fare l'ospedale velocemente. E ho seguito la logica che il governatore ha detto, pubblicato nei giornali, in cui dice applichiamo le stesse logiche che sono state applicate per il Ponte a Genova. Cosa che sono d'accordo anch'io, cioè fare il commissario. Fare il commissario, la scelta del commissario è del Presidente della Regione, Barra Governo, ovviamente, e io applaudo questa iniziativa, perché vuol dire fare l'ospedale tutto in quattro anni, anziché in sette volte. Secondo lei, Zai ha questa intenzione di fare il commissario per non arrivare all'ospedale? Questo non lo so. Ho letto un articolo in cui auspicava, anch'io devo dire, ovviamente fare velocemente l'ospedale, penso che sia la logica del governatore, mia, di tutti quanti, di Padovani. Devo dire, la burocrazia è una cosa che, uno, un cittadino normale, normale nel senso non ha detto i lavori, è una cosa che voi non avete idea. Bisogna cercare di assolvere questo problema. Tutti lo dicono, però adesso stanno cercando di fare, di assolvere questo problema, ma veramente, io lo saprei dove iniziare, è solamente enorme, talmente responsabile, si gioca sempre sulla responsabilità delle persone, e le persone stanno attente quando devono rischiare di proprio. Certo, speriamo rimanga fuori in modo tale che non. Io auspicava, quello che mi interessa a me è fare l'ospedale il più presto possibile, Zaya è sicuramente d'accordo, non ho ombra di dubbio a stare, lui decide, non certamente a me, il mio dovere l'ho fatto, continuo a fare un tema di collaborazione, certo, è il mio dovere è far sì, per cui in piena collaborazione a Zaya. Senta, ultimamente sono usciti un po' di sondaggi, il primo di solo 24 ore, dove lo dava un attimino un po' nelle ultime posizioni, poi è stato fatto un altro sondaggio, dove lei invece è molto amato dai, cosa pensa? Perché nei sondaggi uno dice molto probabilmente il sindaco vorrà ricandidarsi già per le prossime, è casuale questa cosa? Cosa pensa? I sondaggi sono l'ultimo, invece è il problema, una volta sono brutto e cattivo, una volta sono bello e bravo, devo dire non mi tocca, francamente non mi tocca assolutamente, a me interessa il rapporto con i cittadini, a me interessa guardarmi allo specchio e dire ha fatto il possibile per fare cose, a me interessa risolvere i problemi, quando dico mi interessa, parlo, mi sono scritto con la sua giunta, con i suoi collaboratori, da solo, da solo, da solo, da solo non faccio niente, andare nei guai fino al collo, non sono incapace, a me i sondaggi interessano fino a un certo punto, a me interessa fare cose e sono molto deluso perché pensavo di fare prima le cose, invece è difficile fare prima e per cui cerco di organizzarmi, cerco di fare tutte le cose, rompo le scatole, i funzionali, penso che non sono molto amato sotto i terzi aspetti perché rompo veramente le scatole a tutti quanti, facendo pressione perché le cose vanno fatte, sondaggio più, sondaggio meno, è l'ultimo mio problema, no, no, sì, va bene, no, volevo dire, mi fa rimettere una cosa, il vice sindaco ora ha sempre la delega che aveva precedentemente oppure ha cambiato? No, no, le due basi, sì, qualche delega è stata spostata, urbanistica e viabilità e chiaramente sta sviluppando. C'era, dunque lui è responsabile del benzinaio, quello al Bassanello? Sono sempre responsabile io. E lei è responsabile sempre? Sempre io, e in questo caso gli ho spiegato all'assessore Michalizzi, che è lui che sta in mano a questa cosa, che se lo smette di farmi fare brutte figure su questa facenda, lo ringrazio molto, però abbiamo trovato veramente, abbiamo trovato. No, ma io le lo chiedo ogni volta, se ne ricordo perché sul fatto, ovviamente questo è uno, ovviamente mi permetto di scherzare con il sindaco anche per i nostri telespettatori che poi magari qualcuno non pensa male perché praticamente il benzinaio che è stato poi abbattuto rapidamente il sindaco in una trasmissione, la prima che venne a trovarmi, ha detto in nove mesi tutto a posto, li faremo questo, faremo un bel altro. Ah, se per questo ho detto anche, facevo a PP1 un parcheggio? Esatto. Mi ho detto le cose sbagliando, ma perché non avevo, è un ingenuo, non so se ti aspetta, adesso vedo. Ma dopo tre anni il sindaco ha capito come funziona la macchina comunale, la burocrazia comunale, i ritmi, i tempi, o ancora all'interno è ancora difficile da capire? No, ho capito, ma ho capito che è fondamentale per risolvere i problemi, è importante avere dirigenti e sono tutti di qualità. Noi abbiamo, molti sono andati in pensione, sono stati sostituiti, ho veramente una bella squadra di assessori e dirigenti, questo ti fa fare un salto, questo lo dico con molto orgoglio, ringraziando la Sone Fullan che è dirigente deputata all'assunzione, la Francesca Benciolini che ha assessorato proprio, come assessore responsabile, abbiamo fatto un grande salto di qualità, non sto dicendo che prima non avevamo la qualità giusta, perché non li conoscevo quasi, ma adesso abbiamo... Col tempo... Abbiamo dirigenti di cui dico, se andassero nel settore privato sarebbero veramente grandi dirigenti, veramente persone di qualità e di questo sono molto contento, perché secondo me lasciare un segno in prospettiva con gente di qualità e avere gente di qualità, persone di qualità fa fare la differenza alla città, e sono convinto di questo. Senta, ogni volta io le chiedo, quando viene ovviamente sempre i soliti lavori che sta facendo, ovviamente le chiedo per capire com'è la situazione, perché a Paso ci sono molti lavori, da piazzare Boschetti, a Via Anelli, allo stadio, a praticamente tutto quello che sta facendo, che ci sono molte cose al centro congressi, ecco. Allora cominciamo con... Andiamo ovviamente alla parandina, io le faccio sempre le solite domande, poi per capire com'è un po' la situazione dei programmi, dei lavori, se rispettano i tempi che ovviamente si era dato, se si stanno rispettando, iniziamo da... Il tra l'abbiamo già parlato, iniziamo da piazzare Boschetti. Il Covid è ovviamente 3-4 mesi, però lì non sono stati in carottina. L'abbiamo lavorato allo stesso, devo dire, certe aziende hanno lavorato, certe no, dipende. Piazzare Boschetti sono andati avanti allo stesso, con molta difficoltà, per mille motivi, però stanno lavorando, in questo caso stanno lavorando. Via Anelli senza è stata sospesa, ha battuto l'ultima valazzina giorni fa. Rimaniamo a piazzare Boschetti, quando terminano lì i lavori si continueranno senza interruzioni, Sindaco? Parliamo solo del piazzale o anche delle palazzine? Parliamo del piazzale, perché sarei già felice nel piazzale, nel palazzino idee che ci verranno molti... Palazzine è una cosa che vi dico, è una cosa che non sarà risolta a breve, penso sarà risolta nel primo semestre del prossimo anno, le palazzine. Io aggiungo speriamo. Mentre quando riguarda il piazzale Boschetti, io penso che in primavera sarà a posto. Abbiamo avuto il problema dell'ambianto, che ha costato molto. Quindi il primavera è inaugurato, possiamo dire che è inaugurato. Io penso che in primavera... Ecco, invece le palazzine mi ha detto... Di là che è privato, che non è pubblico quello. Però ogni volta che vedo Storrendi qua, partisco di gioia, però garantisco che è stata una difficoltà eccezionale a farsi qualcosa, molto molto difficile. Ma ce la racconti, perché? Perché faccio fatica a spiegarlo, perché quando sono da fare determinate cose, mi ricordo che avevamo un sanziamento pubblico di soldi da spendere, che il progetto era già fatto, abbiamo dovuto adattarlo alle logiche attuali, che non erano molto facili, a parlare dei palazzini in particolare. Abbiamo fatto una permuta sotto l'aspetto per ampliare il parco Iris, c'è stato un collegamento molto importante questa cosa. E non è facile risolvere il problema. Però ci siamo riusciti, insomma, siamo a buon punto. Ecco, ma per quanto riguarda i palazzini, il problema è a carico dei privati? Penso che i privati faranno più presto possibile, ovviamente. Privati vuol dire che faranno appartamenti, barra, piccoli, negozi. Ma quelle sono state già cedute e quindi privati? Non sono state ancora cedute. Non sono state ancora cedute? No, è buon che sia il Pol Blunga, però gli accordi sono stati definiti. Operativamente no, come accordi sì. E quindi ci manca un passaggio che è mica poco? No, esattamente. Staremo a vedere quando terminano le ruote Marlene? Fine anno. Iniziano i lavori fine anno? Sì, sì. E quindi iniziano anche i lavori praticamente delle viabilità di tutto quello che comporta quella zona lì? Un anno i lavori, loro saranno veloci. Penso a fine del 2021. Non è stato facile risolvere questo problema. Però devo ringraziare per loro, sono stati molto operativi e collaborativi. Lo so che quando parlo di Di Roma Marlene molti non sono contenti di questa iniziativa. L'ho rilettrata e raggiunta precedente, però l'ho confermata. Non voglio scaricare responsabilità su nessuno perché penso che sia un'occasione unica per sistemare l'ex forboario. Per cui piazza o non piazza, nessuno aveva 32 milioni da investire sul forboario per sistemare e sistemare la viabilità. Per cui io sono contento di aver o temperato, di aver continuato con l'aiuto dell'assessore Collasio, dell'Uama Marlene, con l'aiuto di tutti ce la siamo acavata. E questa cosa qua a fine anno cominciano i lavori. C'è un anno, 14-15 mesi i lavori. Questo sarà completato. Non posso immaginare di dire, vuol dire che significa che quella zona è orrenda, è orrenda, è orrenda. Lo so, è protetta dalla sovrintendenza perché è a cartellare d'Avanzo. Noi non possiamo avere i soldi per fare questo, siamo già in difficoltà. Però lì ormai mi sembra che le carte sono già a posto. Sono a posto, sono a posto. Fin'anno, fin'anno. Iniziano i lavori fin'anno. Molti non amano sentire quel tipo. Ma perché iniziano i lavori fin'anno e non prima domanda? Buah, è sempre solito cosa. Burocrazia. No, pensavo che... Ora fai il via, via... Pensavo che fossero i proprietari... No, no, no. Sono tempi burocrati. Tempi burocrati. Va bene. Nella pubblicità, poi l'ultima parte di Primo Sider Pares con il sindaco Sergio Giordani e tra poco.